A parte la firma va bene tutto, il gol va in secondo piano, siamo contenti per questa prima amichevole che abbiamo fatto, abbiamo fatto tante belle cose, sotto il punto di vista dell'atteggiamento non ci è mancato nulla, credo, contro una squadra che è venuta a giocarsi la partita, non pensava che fosse la amichevole secondo noi perché a livello agonistico era alta e noi abbiamo risposto alla grande, siamo contenti. Abbiamo fatto un buon lavoro sia atletico che tattico, il mister ha già dato una sua idea di quello che vorrebbe che noi mettiamo in pratica la domenica e credo che oggi comunque qualcosa abbiamo fatto. Al di là del campo, come dicevo prima, comunque abbiamo anche un bel gruppo all'interno spagatoio, in albergo ci divertiamo, stiamo spesso insieme, insomma questo serve il ritiro, io credo che oltre per mettere benzina e cose tattiche, credo che più fai gruppo, è uno sport di gruppo quindi se riesci a fare qualcosa a livello di uomini ti dai più qualcosa in campo. Diciamo che è un mestiere che più senti la pressione più significa che sei vivo, quindi è più bello così, è chiaro che sappiamo dove siamo, sappiamo il presidente cosa sta combinando a Trapani e non possiamo solo essere orgogliosi di far parte di questo progetto e sono sicuro che io e i miei compagni metteremo il 150% per raggiungere l'obiettivo.